Apre il terzo maxi cantiere nel giro di un centinaio di metri compresi nel cuore della viabilità cittadina. Dopo la manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia e la demolizione e ricostruzione del sottopassaggio dei cappuccini, ecco alzarsi i ponteggi anche alla stazione ferroviaria pronta a sottoporsi ad una cantierizzazione che durerà almeno due anni. Entra infatti nel vivo la riqualificazione frutto di un accordo con RFI stipulato a maggio 2021. 16 i milioni di euro di investimento, metà a carico del comune e metà finanziati dalla stessa rete ferroviaria. Gli interventi principali riguarderanno un nuovo ingresso, un rinnovato piazzale fabbricato viaggiatori, oltre ad una implementazione di parcheggi, spazi verdi e ciclabili. La previsione è di avere una nuova stazione pronta a fine 2025. Come è successo per il palazzo dell'ex intendenza di finanza in via Branca, anche la stazione sarà ricoperta da un telone brandizzato Pesaro 2024 che verrà posizionato nelle prossime settimane. La riqualificazione si inserisce nel piano di trasformazione delle stazioni ferroviarie italiane in hub intermodali e poli di servizi più integrate nell'ecosistema urbano e capaci di influire positivamente sulla riqualificazione dei territori. L'intervento di competenza del comune riguarderà la progettazione e realizzazione della viabilità di accesso alla stazione ferroviaria e dei due parcheggi. Un lavoro di fatto concertato con quanto sta avvenendo fra Cavalca Ferrovia, Sottopasso, Asfaldatura Parcheggi e il prossimo ponte ciclopedonale sul Foglia. Gli interventi di RFI saranno su un fabbricato dei viaggiatori, sul nuovo ingresso sud e sulla piazza di fronte alla stazione.